Sì, ma così trovo dell'OMA e sinceramente mi vergogno. L'intreccio di due mani a farsi compagnia. Anche nelle strade più strette, nei vicoli più oscuri. Mi sembra che sia stata aggredita mentre stava tornando a casa, ma non si sa ancora molto. Senti, vorrei che te ne occupassi due. Sai che è il mio giorno libero, no? Io quei due li voglio ammazzare. Sì, vorrei che te ne occupassi.